Ragazzi, piccola intro velocissima per dirvi che se arriviamo a 3000 mi piace, il prossimo video lo faccio da 25 minuti, facciamo un episodio XXL di Minecraft Ita in cui ci andiamo a fare un sacco un sacco di farm nella zona, quella sempre attiva, nei 9 chunk attivi di spawn. Detto questo vi lascio al video e buona visione, mi raccomando, un bel mi piace. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita sesta stagione, pronti e carichi perché oggi andiamo a fare un grande episodione. Come vedete l'Iron Titan procede, ho fatto, ho ricollegato la farm di Enderman, quindi abbiamo anche la farm di Enderman attiva, potremo tornare a farmarci Ender Pearl, tanta roba. Dopodiché l'Iron Titan è quasi fatta, è praticamente conclusa, ma oggi andiamo a utilizzare tutta questa grandissima quantità d'oro che abbiamo, perché oggettivamente è una grande quantità d'oro. Andare a utilizzare, oh ho sbagliato, guardate un po', qua ci sono degli slab, qua prendiamo degli stone brick, mi servirà del quarzo, del quarzino, delle scale, i pillaroni di quarzo. Poi magari ci prendiamo tutto sto quarzo che ci può servire. Ultimissima cosa proprio della glowstone e non ci serve nient'altro. Ora che cosa andiamo a fare oggi? Andiamo ad utilizzare appunto a creare qualcosa di figo con storo. Non sarà una costruzione gigante, però sarà figa, sarà molto molto figa, perché la andiamo a fare qua sopra. Ho notevolmente allargato quest'isola, l'ho fatta, no, notevolmente no, però guardate che per allargarla ci vuole un bot, cioè è problematico allargarla, fidatevi di me. Ergo ci dobbiamo accontentare una cosa del genere. Ora andiamo a creare questo tempio carino e coccoloso. Togliamo le torce perché mi danno fastidio, le metto ovviamente per non far spawnar mob, poi le togliamo e andremo ad illuminare tutto in maniera un po' più carina. Ogni tanto ci sono dei glitch e bug grafici che mi avete fatto notare anche nello scorso video, si formano e si distruggono blocchi viola tipo accanto a noi, non so se lo notate, cioè è stato tipo 30 secondi fa una cosa del genere. E qua ci andiamo a mettere dentro un bel tempio che non si vedrà, praticamente sarà un casino vederlo perché siamo altissimi, però magari potremmo respawnare qua. Ora prima di tutto mi sono scordato la crafting table perché attualmente non ce l'ho, vediamo se abbiamo qualcosa di utile qua. No, 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 niente crafting, allora dobbiamo scendere e risalire, pensate un po', wow, aspettate, hey, così, bravissimo, atterra, atterra sull'acqua, perfetto. La discesa è molto rapida, la salita è forse un po' più problematica, però non c'è altro modo attualmente. Crafting table mi serve, nient'altro, siamo sicuri, ma no, non credo, nient'altro. E adesso risaliamo. Allora, con questi andremo a delineare il tempio, quanto sarà grande sto tempio qua. Ecco, così già potrebbe essere abbastanza grande, deve essere anche, soprattutto, lungo perché se no non ha senso. Vabbè, ok, così già ci può stare. Per me, per me può andare, eh. Beh, bello grande, bello, molto, molto grande direi. Tac, così. Qui magari ci andiamo a riportare un po' di terra proprio per non farlo arrivare alla fine. Magari qua copriamo addirittura la fonte d'acqua, che potrebbe essere figo, tipo fare una roba del gioco. Questi li leviamo perché se no non ce la facciamo con i tempi. Mettiamo uno qua. Oh, precisi, porca miseria, è la prima volta. Precisi, incredibile. Ok, bello, mi piace. Adesso mi serve, questo è quello... Ah, carino, figo così, bello. Particolare, direi. Tac, lo stessa cosa andiamo a coprire qua. Il punto sarà che io non ce l'ho tutto sto quarzo. O meglio, devo fare... Questi si fanno con gli slab e poi mettendo gli slab uno sopra l'altro. Ok? E ne mancheranno parecchi, però... Vabbè, facciamolo. Ok, questa parte è completa. Perfetto, passiamo a quella successiva adesso. Utilizziamo l'oro perché abbiamo fatto tutta sta roba per fare il coso e poi... Eh, no, non facciamo le cose d'oro, non va bene. Quindi saranno una, una va messa qui e poi ne abbiamo una centrale. Questa sarà parte del nostro tempio. Poi andremo a metterne parecchie, ne voglio mettere diverse. Stessa cosa va fatta qui. Questo lo spostiamo magari in qua e qui ne mettiamo una. No, troppo, troppo attaccati. È così, già può andar bene, no? Ne mettiamo una qua. Una qua al centro e poi ne riportiamo lo stesso di qualcune. Una e due. Perfetto. Questo potrebbe essere lo schema del nostro tempio. Fosse stato più lungo di uno, avremmo magari potuto metterci... Eh, perché tipo questo lo spostavi più in qua, questo lo spostavi di uno... Ne mettiamo un'altra. Forse vabbè, lo possiamo allungare di uno, no? Non c'è problema nel farlo. Lo allunghiamo di uno. Ho praticamente finito il quarzo per fare sta roba e adesso stavo alzando il tutto di altri quattro blocchi. Abbiamo fatto la parte sotto e stiamo tirando sulle colonne. Le colonne sono praticamente fatte. Ci vuole poco a costruire, madonna, con il jump boost e tutta sta roba. Ah, ok, sì, ne avevo fatto una di troppo. Tac. E non abbiamo utilizzato neanche tanto oro. Cioè l'oro in verità l'abbiamo utilizzato pochissimo perché non c'è praticamente servito. Ora, potremmo fare una piccola miglioria che forse conviene utilizzare. Ovvero queste parti centrali, queste strisce centrali. Provo a fare una cosa pacchianissima e bella però allo stesso tempo. No, bella non so quanto possa essere bella, però ci conviene perché risparmiamo un botto di coso. Non voglio il tuo minecart, mi serve questa roba soltanto. Ci mettiamo l'oro qua al centro. Proprio una cosa mostruosamente dispendiosa. Però tanto di oro ne abbiamo, preferisco utilizzare. Eccolo qua. Figata, mostruosa. Almeno qui c'hai pure l'oro dentro. E adesso dobbiamo andare a mettere... Magari lo alziamo anche di uno. Sembra a basso, lo alzo di uno. Allora, secondo me è figo. Secondo me è figo un botto. Però dobbiamo fare qualche miglioria... No, no, non l'ho finito, eh. Aspetta, il fatto è che io stavo... Qua sopra contemplando il mio tempietto, ma qua fuori è... Cioè, è così. E non... Ho finito il quarzo, signori. E non è che c'era così. Riserve infinite. Questo è quello che ho portato io, che avevo nelle mie tasche. E quello che ho utilizzato. Allora, potremmo fare intanto per la luce una cosa del genere. Perché è figa. Si sposa bene con tutto. No comment, è meraviglioso. Il punto è, potrei ottenere quarzo facendo altre cose. Ma io direi che possiamo lasciarlo così, perché si intravede quarzo, c'è tutta sta linea. Questo coso qui mi disturba un po'. Tutti questi slab mi disturbano. Però dobbiamo utilizzarlo per forza così. No, ma va bene. Alla fine può andare. Qui ci mettiamo una sedia. No, non sembra una sedia. Sì, sarebbe da metterci una sedia o qualcosa. Però, vabbè, fotte sega. Questo lo dobbiamo assolutamente togliere. Rimettiamo qua tutte le torce che avevamo precedentemente tolto. Perché non devono assolutamente, dico assolutamente, spawnar mob. Devo fare un po' di riporti di terra. Perché la piramide fa troppo su e giù. Ma vi dico... Oh, 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 aspettate un attimo. Aspettate. Eh, ma questi si vedono? Cioè, non posso fare una cosa del genere orrenda. Eh, vabbè. E ce lo teniamo così, signori, eh. Però, a pensarci bene, potremmo fare anche un'altra cosa. Guardate un po', eh. Levare questi due, metterne uno così. E metterne uno così. Tac. Eh, che risparmiamo glowstone, illuminato lo stesso. Però non si vede. Glowstone messo dappertutto. Eccoli qua, signori. Fatto tutto. Bellissimo. Meraviglioso. Potrei anche continuare a mettere roba qua. Anche se non so quanto mi possa convenire alla fine. Perché tanto, una volta che c'ho il quarzo disponibile... In verità non ho altro quarzo disponibile. Dovrei farmarne un po'. E per farmare quarzo è complicatella, eh. La questione non è proprio, proprio facilissima. Perché dovremmo andare nel nether... Cioè, vabbè, ok, andiamo nel nether. Però mi divane scomodo. Ma io sto quarzo, da dove l'avevo preso ce n'avevo tanto... E non ricordo come l'ho ottenuto tutto sto quarzo, poi. Mi ricordo avevo distrutto... Ah, è certo, dalla piramide. Ovviamente avevo distrutto, fatto sta costruzione e ho finito di farmar quarzo. Va bene. L'abbiamo trasferita qua. Andiamo di sotto e vediamo se si vede la nostra costruzioncina. Qua è troppo buio, però. Forse sarebbe il caso di metterne un paio di lampade qua. Ma mica per niente, perché ho paura a spawnino mob. Solo per questo motivo. Eh, ok, già può andare meglio. Via. Wow. Cazzo, 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 cazzo. Grande, proprio alla fine. Non si vede, assolutamente. Si vede soltanto l'isola. Ci possiamo allontanare quanto ci pare, ma l'isola non si vede. E qual è, ragazzuoli? Io ho fatto, ho posato i letti, ho dormito qua nella casa, ho fatto prima. E no, no, vediamo quanto ci dobbiamo allontanare, perché sarebbe figo poterlo vedere, no, a un certo punto. Cioè, se t'allontani, se stai qua sotto, no, però magari se t'allontani, ecco, lo riesci già a intravedere. Da lì lo vediamo benissimo il tempio. Vediamo anche come si vede, no, qual è l'effetto che dà bene o male da lontano. Saliamo, 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 saliamo veloce. Bellissimo anche quest'altra piramide di sabbia sospesa. E figo, sta diventando figo sto mondo, nulla da dire. Bello. Mi piace, mi piace, però si vede in lontananza, si anche si rintravede, che è un tempio molto, 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 molto bello. Ragazzi, io approvo. Una volta che sarà finito, poi, sarà anche più figo. Approvo, mi piace sto tempio. È particolare, carino, con quest'acqua che scende e tutto il resto. Poi, ovviamente, andremo a costruire anche altre cose. Questa sarà una delle, magari, tante isole volanti che andremo a fare, disperse in giro per il monto, con tutte le costruzioni d'oro sopra. Io la butto da là. Poi, magari, facciamo anche il pianeta d'oro, tipo una roba degli... un pianeta enorme, tutto d'oro. No, dai, è troppo brutto, è pacchianissimo. E quella, ragazzuoli, ho fatto... ho posato i letti, ho dormito qua nella casa, ho fatto prima. E no, no, vediamo quanto ci dobbiamo allontanare, perché sarebbe figo poterlo vedere, no, a un certo punto. Cioè, se t'allontani, se stai qua sotto, no, però magari se t'allontani, ecco, lo riesci già a intravedere. Da lì lo vediamo benissimo il tempio. Vediamo anche come si vede, no, qual è l'effetto che dà bene o male da lontano. Saliamo, 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 saliamo veloce. Bellissimo anche quest'altra piramide di sabbia sospesa. È figo, sta diventando figo sto mondo, nulla da dire. Bello, mi piace, mi piace, però si vede in lontananza, si anche si rintravede, che è un tempio molto, 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 molto bello. Ragazzi, io approvo. Una volta che sarà finito, poi, sarà anche più figo. Approvo, mi piace sto tempio. È particolare, carino, con quest'acqua che scende e tutto il resto. Poi, ovviamente, andremo a costruire anche altre cose. Questa sarà una delle, magari, tante isole volanti che andremo a fare, disperse in giro per il monto, con tutte le costruzioni d'oro sopra. Io la butto da là. Poi, magari, facciamo anche il pianeta d'oro, tipo, una roba degli, un pianeta enorme, tutto d'oro. No, dai, è troppo brutto, è pacchianissimo. Comunque, ragazzi, penso che per questo video possa essere tutto. Vi ringrazio tantissimo. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ragazzuoli, sfondate il suo tasto di mi piace per questa nuova costruzione. Iscrivetevi al canale se avete fatto, condividete il video su Facebook e famicione a versione. Mi raccomando, passate in tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram. Diciamo, come al solito, a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.